Funziona il nuovo programma regionale di abbattimento delle liste d'attesa con il periodo di sperimentazione proposto dall'ASL di Foggia per le città di Sansevero Manfredoni e Cerignola. Una iniziativa dell'assessorato alla sanità che in pochi giorni potrebbe dimezzare il periodo che intercorre tra la prenotazione di un esame specialistico il giorno della visita. Ad esempio all'ospedale Tatarella di Cerignola c'è stato negli ultimi giorni un inconseto via vai notturno. Chi era in lista ad esempio per un Doppler vascolare con prenotazione ad un anno si è visto chiamare dalla direzione sanitaria dell'ospedale Cerignolano e potrà sottoporsi nei prossimi giorni all'esame. Sono due i turni quelli dalle 16 alle 20 e dalle 20 a mezzanotte all'interno dei quali le liste d'attesa sono state sfoltite di molto. C'è un problema rispetto ai costi del personale che naturalmente gli orari notturni aumenta. Se di giorno infatti un medico viene retribuito 70 euro lordi e un tecnico 25 euro ad ora. Nelle ore notturne e nei festivi le tariffe lievitano con 100 euro per gli specialisti e 40 per il personale. Il risultato è andato al di là delle previsioni. Ha commentato l'assessore regionale al welfare Elena Gentile, l'adesione degli operatori sanitari, tecnici e personale del comparto. I pazienti e i loro familiari hanno risposto positivamente all'iniziativa. L'organizzazione del lavoro nelle divisioni e nell'unità operative di radiologia nelle ore serali e nei giorni festivi non confligge con l'assistenza ai pazienti ricoverati e alla gestione delle emergenze e urgenze. Nelle prossime settimane toccherà agli altri territori. Infatti tutte le asle di Puglia stanno allestendo la programmazione e l'articolazione delle aperture straordinarie degli ospedali. Siamo certi, ha concluso l'assessore Gentile, che dopo aver investito risorse importanti nel potenziamento della rete e le nuove tecnologie entro la fine del mese di gennaio tutti gli ospedali di Puglia concorreranno a raggiungere l'obiettivo di rendere esigibile il diritto di migliaia di cittadini ad una diagnosi ottenuta in tempi rapidi nelle strutture pubbliche.